Super ciao ragazzi miei e bentornati sul mio canale, io sono EnricoZerodix e questa è effettivamente LalaOvest, il mio nuovo studio dove prende forma LalaOvest e bentornati nel secondo episodio di Crash Bandicoot 1, PS1, ho giocato su PS3, ho visto qualcuno me l'ha chiesto, ma dove lo giochi? PS3 Andiamo subito a Jungle Rollers, non perdiamo tempo, perché l'altra settimana non è uscito nulla, avete visto? Insomma purtroppo questo episodio numero 2 si è fatto attendere, quindi non voglio neanche perdermi troppo in discorsi, magari ovviamente avremo modo di parlare di cose, io non sento niente, però devo alzare il volume Perché l'altra settimana non è uscito niente? Perché è successo di tutto, mi è esploso un harddisk, l'ho scritto nel tab community di YouTube E un sacco di gente, mi avete dato il vostro supporto, anche il live se ne è parlato Praticamente niente, era un harddisk dove tenevo tutto l'archivio dei video di YouTube che mi è esploso Per fortuna sono riuscito a recuperare qualcosa da un altro vecchio backup che lì per lì mi ero dimenticato completamente di avere Però molta roba è persa, cos'è andato perso? È andato perso praticamente tu, ecco ho sbagliato, non ero concentrato Ho perso praticamente tutti i gameplay di CTR fatti a Milano, CTR Nitro Fueled e qualche altra roba del 2019 Perché avevo molto altro girato su un harddisk che avevo in un armadio Dove avevo tutti i gameplay del 2017 di Nenzein Trilogy e non mi ricordo cos'altro Però appunto quando sono andato a Milano mi presi questo harddisk esterno dove poi immagazzinavo tutta la roba di CTR Non so veramente cosa sia successo, completamente rotto, inaccessibile, distrutto Ho provato per giorni e giorni, per questo non ho più fatto video l'altra settimana Perché un po' che sono avuto, per lavoro o cose così, ho avuto impegni Un po' questa perdita di questo harddisk, no, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso Questa perdita di questo harddisk che mi ha veramente reso invivibile No, mi ha reso proprio, non lo so, mi ha reso proprio impossibile la vita Quindi veramente ho fatto, ma l'ho provata di tutte per recuperare la roba il più possibile Perché mi preoccupava, perché c'erano anche gli Zero Play C'erano i progetti degli Zero Play che per fortuna avevo anche dall'altra parte Quindi niente, tutta questa esperienza mi è servita a capire l'importanza di un backup Oh, il livello bonus di Brio Ce la posso fare? No, non ce la posso fare No, no ragazzi, non ci credo, non ci credo Alla prima, alla prima Aspetta, dove arriva in fondo, eh C'è anche Aku Aku Questo se non sbaglio è il primo livello di Brio Ah Ok, da, madò, incredibile, incredibile alla prima Vediamo se si riesce a fare una run perfetta senza morire stavolta Quindi niente, la settimana scorsa non ho uscito video Non ho potuto perché ho dovuto fare anche altri lavori Quindi ora però sono libero E ho pianificato diversi video da fare da qui alla fine dell'anno Che comunque manca po' alla fine dell'anno Però io ora veramente ci voglio puntare tutto su YouTube, Twitch Quindi seguitemi anche là Oh, Wild! Perfetto! E quindi vi prometto E lo dico, cioè Sinceramente non voglio fare promesse Che poi non si possono mantenere Ma vi prometto che I gameplay usciranno da qui in avanti a cadenza settimanale La domenica O a meno che non cambia Nooo A meno che non cambia il giorno Però insomma Un episodio di Crash alla settimana esce Poi vediamo più avanti se fare Crash 2, Crash 3 Mi piacerebbe fare anche Crash 4 Vi dico la verità Perché l'anno scorso non l'ho fatto I gameplay di Crash 4 Ho giocato tutto in live Secondo me una, diciamo Riscoperta di Crash 4 ci starebbe Non lo so, fatemi sapere E comunque non solo gameplay Ma ho intenzione di fare molti altri video Quindi La mia idea sarebbe di riusci a far meno due video a settimana Io Qualche video da fare ce l'ho Vediamo più avanti come va Non voglio mettere troppa pressione Ecco lo sapevo E soprattutto nel frattempo C'ho da fare Zero Play di Rift a parte Che finalmente ora posso Dedicarmici L'ho già scritto Registrato Devo solo montarlo E tutto comunque Ecco Ecco Io ho in mente Una data Per quando far uscire Zero Play Dio Ben Come Di quando far uscire Zero Play di Rift a parte Ma non ve la dico Perché non voglio Perché Allora Dedichiamoci a questo crash Vediamo dove si arriva Secondo me Oggi ci tocca Fino a Sunset Vista Non credo Bah Vediamo Vediamo Perché come sapete Questa run Ma no Ma non è possibile Non è possibile In questa serie Voglio puntare a fare Il Completismo A prendere tutte le gemme Tutte le cose Le chiavi Vabbè Tutte le gemme Ovviamente E quindi Sunset Vista Va presa Va presa la gemma Che se non sbaglio C'è la gemma Colorata Non mi ricordo Perfetto Perfetto Esatto Questo gioco davvero Guarda se ne è parlato Anche nell'ultimo gameplay Ma È incredibile Cioè vecchio di 25 anni Eppure È meraviglioso È incredibile Io Boh Ma non si può descrivere Non si può descrivere Perfetto Presa 2 e 3 Una fluidità Cioè fluidità Ovviamente Entro i limiti Però È incredibile Che si giochi così bene Ancora oggi Vado là Vado là Se sei esperto Navigato In crash Uno sai Che devi andare lì Che sembra Sembra che te li vai addosso Ma in realtà No Lui si sposta All'ultimo momento Per farti passare Esatto Nothing Fortress Qui mi sembra Che non si può Prendere la gemma A questo giro Ci vuole la gemma Colorata Quindi mi sa Che ce ne possiamo fregare Delle scatole Per ora Però Cerchiamo comunque Di prendere il bonus Di Tauna Perché se no Non si salva Io Senti le prendo lo stesso Non mi ricordo No mi sa che ci vuole La 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 gemma Già Perché mi confondo Sempre Di tutti e due livelli Dei nativi Nel primo Quello dell'altra Ci vuole la gemma E qui Mi sa che qua Ci vuole la gemma Rossa Per andare Nel mini livellino Delle nuvole Vedrai Mi confondo Porca miseria Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Eeeh Cia Madonna Qui non c'è piedi a pillola Però c'è piedi a A fava Perché Se un becchi Almeno il pixel Della piattaforma Lui non Non ci resta Agganciato Che meraviglia Sono stati Game Awards Eri sera Ragazzi Sono stati una delusione Su tutti i fronti Non me ne frega niente Ci si aspettava Di tutto Siamo stati in live Fino alle 5 e mezza Tra l'altro Io veramente Sono rimasto male Ma Cioè Non è stato Tra l'altro Un brutto evento Meglio dell'anno scorso Dell'anno scorso Soprattutto Perché ovviamente C'era nemmeno il pubblico L'anno scorso Però è stato un evento Secondo me Che ha lasciato molto A desiderare Cioè Ci sono stati Moltissimi Assenti Secondo me Proprio Naughty Dog Non si è mostrata Ma in realtà Non si è mostrato Nulla di Sony Al di là di un Di un trailerino Streaming Sito Di Horizon Che onestamente Cioè Un po' non si è visto Nient'altro Di Sony Quindi Mi sa che Sony Ha in serbo Un evento Tutto suo Da qui a Nell'arco di un mese Secondo me Magari già Prima della fin Dell'anno Chissà Sarebbe bello Se regalassero Prendi la vita No Di là Ma l'hai visto Cosa ho fatto Cioè io non credevo Fosse possibile Prendi la vita No Di là Va bene Va bene Sono bravo Sono bravo Quindi io Secondo me Da qui a Entro un mese Magari Entro la fin dell'anno Sony viene fuori Con Con uno state of play Bello ricco Secondo me O con qualcosa O comunque Entro gennaio Perché è tanto Che non si vede Niente di Sony E Cazzo Io voglio sapere Cosa stanno facendo Naughty Dog Non si sa nulla Niente È sparito tutto Ovviamente Non sono Naughty Dog Ma anche tanti Cioè In attesa Nei prossimi mesi Di Sony C'è solo Horizon God of War E poi nient'altro Quindi Qualcosa devono annunciare Mi è sembrato un evento Quasi esclusivamente Microsoft Perché Tra l'altro era Al teatro Microsoft Microsoft Theater A Los Angeles Quindi insomma Avrebbe anche senso Cioè Non ha molto senso Perché il Game of War Non dovrebbero essere Dei Un evento Microsoft Camuffato Da Da premiazione Infatti Mezzi premisi Del Presidente Va bene Va bene Non voglio Polemizzare Però Va bene Va bene Game of the Year It takes you Non lo so Non ci ho giocato Però sinceramente It takes you Game of the Year Con tutti i giochi Che sono usciti Non sono tanti I giochi che è uscito In quest'anno Ma It takes you Game of the Year Va bene Va bene Io non avendolo giocato Non lo so Però Vederlo così Non mi sembra Un gioco da game of the year Magari mi sbaglio Allora Qui abbiamo fatto il segretino Porca Andiamo a diritto Andiamo a diritto E sapete che in questo gioco Non è come l'ensane In questo gioco Devi arrivare in fondo Senza mai morire Per prendere la gemma Perché ogni checkpoint Non ti conta le casse Che in realtà Mi sa Che dissero Che il fatto Che il checkpoint Non ti conta le casse In realtà Era Non un bug Non è un bug Ma è una cosa Che non sono riusciti A fixare in tempo Perché loro Cosa è passata Attraverso il muro Mi pare di aver letto Che loro avessero Già intenzione Di fare che ogni checkpoint Ti contasse le casse Però Per qualche motivo Non sono riusciti A Aggiungere O a correggere Questa cosa In tempo Per l'uscita Che poi hanno fatto Nel 2 E quindi Crash 1 è rimasto Con questa Difficiore assurda Delle scatole Che Forza arriva in fondo Senza morire Cosa che poi Avrebbe ispirato L'ensane Ma vabbè Lasciamo perdere La relica insomma Di Crash 4 Dai Eh vabbè Adesso non lo rifaccio Perché secondo me Ci vuole la gemma Per arrivare al livellino Quello nelle nuvole Livellino Assolutamente Quando lo scopri La prima volta Da piccino Mi ricordo Mi sembrava È una cosa magica Proprio Quando vedi Le nuvoline Ma sono le nuvoline Che poi Secondo me È molto Una specie Sono un imbecille È molto Cioè ci vedo molto Una citazione a Super Mario A quella parte lì Con le nuvole Ma sono cretino Sono proprio cretino Andiamo con calma Piano Vedi 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 scivolare la gemma Ho fatto bene Dai Ho fatto bene A non Non ripartire Perché sarebbe stato In bar Dai Sono scivolato Sul ghaino Sul molliccio Che poi cos'è Del muschio Cosa dovrebbe essere Faccio a meno Di ripetervi Ancora una volta Che quando ero piccino Io arrivai a questo livello E credevo Che sarebbe finito il gioco Perché quando Giocai la prima volta Da piccolo Ero convintissimo Che ogni isola Di Crash Rappresentasse un gioco Credevo che Nella seconda Madonna Che nella seconda isola Ci fosse Crash 2 Nella terza Fosse Crash 3 Cioè nella mia Stupidissima ingenuità Stupida No vabbè Ingenuità di un bambino Che non ci apisce nulla Credevo che finita La prima isola Finiva Crash 1 Anche perché L'uno mi durò mesi Quando ero piccino Oddio mesi In realtà sai cosa Perché quando siamo piccoli Almeno io ho avuto Questa esperienza Che il tempo Non ha veramente senso E quindi Non vorrei che Effettivamente magari All'inizio Crash 1 Non mi sia durato Così tanto Come io penso Di ricordare Ma in realtà A quel tempo Magari fai conto Mi sia durato due settimane In realtà io ho letto Quelle due settimane Come se fossero Immenze Ed è possibile Stavolta Ci pensate È È un po' angosciante Però veramente vorrei Tornare indietro Vorrei avere Veramente delle registrazioni Eh aiuto Uh mamma mia Perché Inizio ad avere il dubbio Che effettivamente Il primo non mi sia durato Così tanto Come penso di ricordare Perché Nella mia memoria Il primo mi è durato un mese Sarà davvero così? Chissà Magari mi è durato davvero Due settimane Un mese E a me mi sembra Mi sia durato Un anno Non lo so Non lo so È Il tempo La percezione del tempo È una cosa veramente Misteriosa Vabbè Non ho preso la vita Che se ne frega Vabbè Andiamo diretti al prossimo livello La prossima La prossima isola Vai Up the creek Ah Il secondo livello del film L'unico L'ultimo livello del film Mi sembra che questo gioco Di ogni Perfetto Benissimo Si vince bene Di ogni tema Abbia due livelli Vero? Sì Mi sembra proprio di sì Bene 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 O forse anche tutti i crash Hanno questa cosa Che ogni tema Ha due livelli Cioè ogni ambientazione A due livelli Non mi ricordo Mi sembra che controlla Mi sembra che nel 4 Né Né vabbè il 4 Mi sembra che nel 3 Ce ne siano 3 Di ogni ambientazione Vero? Mi sembra di sì Vabbè Senti là la musica Le musiche di questo crash Del primo Sono le più ambiente Di tutta la serie Però Nonostante siano molto ambiente Sono anche Cioè hanno Molta melodia Senti Qui ci sono rumori Però c'è la melodia E' una cosa che secondo me Crash 4 Proprio non ha Crash 4 C'ha delle musiche Che Al di là di qualche guizzo Non Secondo me proprio Non Cioè non hanno proprio Non 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 ripropongono proprio La Lo stile Delle musiche di crash A parte la musica Nel menu principale Bello Vediamo se non muoio Perché qui credo Che si possa prendere la gemma Senza gemme Ma guarda Guarda Te guarda com'è bello Il Il fatto che si vedano i sassi Sotto Sotto il filo dell'acqua Incredibile L'attenzione Ma io veramente Non voglio più ripetermi Basta Veramente Basta Dai Su 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 E quindi ora Non posso salvare Però c'è da di che questo gioco Non ti conta le casse del bonus Credo Credo eh Andiamo a vedere Non mi ricordo più Sai Ok Non sono mai morto Vediamo se ti conta le casse del bonus Due Erano quelle due del bonus Quindi ti conta le casse del bonus Davvero No 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 Ripper Roo aspetta Andiamo a vedere No Ma c'è Ma c'avevo acqua Ma c'è proprio una me Di bestemmia in croata Ma non c'è succeso La scimmia Abbiamo andato nell'acqua No No Patonna Eccoci Patagino anche qua eh Eh si Erano quelle due lì No Non è vero Non erano quelle due là Che queste non le ho fatte Allora Non contano le Le scatole nel bonus Te ne sei dimenticato Queste qua Non le ho prese Ed erano Sono molto di più di due Ma porca miseria Oh Ma allora dove l'ho lasciata Le due scatole No Vuoi vedere che l'ho lasciata Dove c'è Dove Ah Andiamo a vedere Alla cascata Quella roba che ti frega sempre Andiamo a vedere Un po' No vabbè Bestemmio in cinese Qui Qui aprendo la Insomma attivando No forse la prossima cascata Si che me lo scordo sempre Ma allora è la prossima Questa Eccola qua E' questa E' questa Oh e non c'è Bezzi Possono passare Vent'anni Venticinque Quarantamila Io me lo scordo sempre Eccolo Eh lo sapevo Lo sapevo Dove è andata a finire Ma dove è cascata Porca miseria Non ci si salva Allora A modino A modino A modino Mi raccomando A modino Vai Bravo Bravo Piano 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 Tirati di sotto Bravo 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 Perfetto Bravo Ole Salta Adesso Oh L'abbiamo fatta E però c'ho da rifare di vedere il bonus Eh Ah no No Il bonus non lo devo fare più perché ho salvato Ah Comunque vedi Non ti conta le casse del bonus Mentre nell'ensente di UGC Aia Che cosa succede Via Via di qui Via di qui Da quest'incubo Perfetto Abbiamo preso tutto E facciamoci un barabà Barabà Dai Ripper Roo Eccolo Vediamo perché Ripper Roo è ignorante A volte ci metto 5 minuti a fallo A volte mi ci vuole un'ora e mezza Quindi vediamo un po' Va fregato al momento giusto Eh Benissimo Cidenti Bisogna fallo Arriva al momento giusto Vediamo Forse Forse lo piglio Forse lo prendo Forse lo prendo No non lo prendo No Ho sbagliato Eh Ora lo piglio Lo piglio Perfetto Inizio Da Vai Perché poi la scatola Di TNT Non Non Resta ferma lì Nel momento in cui l'attivi Resta ferma lì Non ha nessun senso Ma vabbè È fatta così Ora Porca miseria Ripper Oh Questo però Sì Questa la piglio Questa la piglio Vero No Non la piglio Porca Non mi freghi più Caro Ripper Ora Benissimo Mi è venuto addosso Ma va bene Vai E ora Sunset Beast Prima di metterci Ah no The Lost City The Lost City Sunset Vista è quello dopo The Lost City Che comunque non è che sia tanto più facile Eh Sì è più facile Ma non è come Non è come Non è che Non è che Ecco ad esempio Mi sembra che nella versione americana Questa roba non si potesse fare Non mi ricordo C'è una differenza fra queste due robe Non mi ricordo Non mi ricordo Allora Guardate Ma guarda quanto è ricca la Boh Incredibile 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 Mori Ne ho le vite 16 vite Ah no C'è Lo sciacquone C'è sempre il suono Lo sciacquone A un certo punto Mori Perfetto Non dovevo Ho attivato Il punto schiamatizio Qui ci vuole una concentrazione Suprema Quindi Sarà meglio Che non cazzeggio Eh Sì Marchese Marchese Guarda bene Ma che bello Mamma mia Mamma mia Eh Oh No io voglio la vita invece No Ma perché faccio il cretino Faccio il cretino Su Bravo Via Riparazione Morte Riparazione Mamma mia Riparazione Mori Olè Stiamo andando bene Stiamo Stop Non è che già te voglio Io Attenzione che qui c'è No Cortex Brio Cortex è al sunset vista Che in realtà Brio non serve Mi annulla Perché Cortex serve a Sbloccare le chiavi Tra l'altro è bellina la cosa Delle chiavi Sempre facciuta Poi mai più riproposta Negli altri giochi No E invece Brio non serve Mi annulla Non ci penso È un bonus Le vite Ti dà un sacco di vite Vite che tra l'altro Non puoi salvare Nel salvataggio E anche questo Mi sa che era Uno di quei Non bug Ma insomma Problemi Che Di sicuro Loro volevano Fa sì che salvavi Anche le vite Dai Ma per qualche motivo Non sono riusciti A farlo in tempo Dai Se non sbaglio Lì c'è Brio No comunque È semplice Questo qui Mi lo ricordo più breve Cioè Mi lo ricordo più difficile Perfetto No C'ho proprio l'incubi Di sunset vista Allora effettivamente Ricordavo sunset vista Ma questo è più fattivo Stavate ora Muoio male Quindi Stiamo Oh Vabbè Però perdi le vite Non è che perdi cose Non lo fa più Tallarti Buon Stavio Deve di Sti ricominciare Mannaggia Ma perché Non sto zitto Perché Non sto zitto Ragazzi Vieni vite Che mi fai Rimorire Vole De no Di far Sto Brio A modo No 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 Non si può fare Vabbè Tanto le scatole Non te le conta Quindi Pazienza Pazienza Vieni 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 Mori Ole Vai Ole Perfetto Eh, attenzione, eh, no, dovevo passare Vai Za, za, no, fermo, fermo che qui ti incula Za, 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 via Perfetto Eh, questa scatola è bastarda Che pomapito schi animali sono Mamma mia, mamma mia Salti difficili e dove trovarli Ma io sono cretino, sono un cretino Devo rifà tutto Ma no, devo rifà tutto Perché non mi salva delle scatole No Per un sarto del capo Mamma il culo C'è su un marziano Batonna ragazzi, che palle Mori E la scalata fino in cima Non passa la porta Te guarda come sono belli i mattoni Chi è che sono il clacson? Va bene Piriri pipi pipi Uh, 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 uh Che provo, che provo Uno, due, tre, quattro, cinque Dei, metto Riprobiamo a fare brio Te mori, mori volevo cosa è successo? nooo non lo so fa oh 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 wow 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 e ora semmo io vado via semmo io ve lo fate da voi oddio pia piano ma non è possibile c'è ma ma ci viene anche la tosse cosa c'è una scatola sospesa per aria io vado indietro prendo le scatole ma non riovincio da capo mori oh no via io io va bene facciamolo tanto voi lo vedete perché io lo taglio per tutto no 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 mi sa che conviene riovincio da capo madonna ragazzi madonna alla fine era vero eh cioè non è sunset vista ma è uguale fa confondere lo stesso sto livello paf 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 no ho frullato tauna ma noi sono proprio una merda ma me ne va bene una cos'è cosa succede perché sta succedendo tutto questo a me era un così bel gameplay tranquillo lineare ma ora riprova fabbrio ormai sono proprio bello briga ma uno è scoppiato ora a modino a modino a modino vieni guarda che bello che si vede l'isola il castello di cortes bene salta sul bestiaccio mamma mia che cool guarda che sono morto qui prima sono morto qua piano aspettiamo i pipistrelli ma guarda belle le luci rosse mamma mia incredibile mori oi salta vai salvaci salva tauna salvaci per l'amor di dio non me ne frega no no non me ne frega niente ciao salviamo si update vai allora calmi che ancora non è non siamo al sicuro mamma mia ti prego mela levati madonna vincere il circosaccio lì no 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 porra e come cazzo fa non ho memoria non ho memoria di questa cosa mamma mia nooo se sbaglio vi me ne vo eh me ne vo mamma mia meno male te le rompe da se guarda per dirti guarda ti risparmio vedi proprio c'è il sorrubi dice oh my friend ti risparmio questa sofferenza dovrei aver preso tutto spero spero di si si dimmi di si dimmi 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 di sì ho preso tutto C'è la gemma colorata Sì Tadà Basta Basta così per oggi Con questo gameplay Perché è andato anche troppo Bene Nel suo male Però ce l'abbiamo fatta Salva E la prossima volta Si va a Temple Ruin E andiamo anche a livello del ponte Forse si arriva qua la Kong Però ci sarà Sansalvista Di sicuro Quindi ho paura Che saranno comunque Nelle sonore bestemmi Grazie a tutti Per avermi visto Fino a questo punto Iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto Mettete like che è molto importante Intanto dislike ormai non serve più Quindi seguitemi su Twitch e su Instagram Perché così vi aggiorno sempre Commentate con tutte le robe Vi leggo, vi rispondo a tutti ragazzi Basta così, tappino Beh, stavolta l'ho preso Stavolta l'ho preso E super già ragazzi miei, alla prossima